Mi ha distrutto, ero già distrutto prima, questa è un'altra botta che mi ha dato, perché non mi aspettavo questa cosa. È una sentenza che ha lasciato letteralmente scioccati i familiari di Elenia, la giovane 29enne che perse la vita in un incidente stradale. Nel 2019 la sua auto venne urtata da un SUV, alla guida c'era un 49enne, è stato assolto. Era il 6 novembre del 2019 quando Elenia Rapini, 29 anni, con la sua auto si stava dirigendo al lavoro lungo la strada di Ristradelle alle porte di Arezzo. Improvvisamente uno scontro con un SUV che procedeva in direzione opposta e che invase la carreggiata guidato da un 49enne, l'impatto non lasciò scampo alla giovane. Assolto perché il fatto non costituisce reato, questa la decisione del GIP Giulia Soldini nei confronti del 49enne, il PM peraltro ne aveva chiesto la soluzione. Credevo nella giustizia e ora mi ritengo che non ci credo più come prima. Ci devo pensare due o tre volte prima di credere. La tesi della difesa era che l'uomo fosse affetto dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno causa dell'incidente. Una condizione attestata da una perizia di parte del professor Pasquale Macri e una relazione del perito scelto dal tribunale Pierguido Ciabatti. Tesi ben diversa, quella sostenuta dai familiari. Il nostro consulente esaminando gli atti è altresì arrivato alla conclusione che la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, qualora effettivamente esistente, lo sarebbe comunque in modo lieve, vale a dire non in grado di provocare il colpo di sonno in posizione seduta. La perizia che noi abbiamo depositato conteneva dei specifici richiami a dei commenti sanitari contenuti nel fascicolo, in particolar modo per quanto riguarda il certificato, l'istituto tossicologico del Careggi. Una volta pubblicate e lette le motivazioni di questa sentenza, la famiglia è intenzionata a presentare un'istanza alla procura generale della Corte d'Appello di Firenze. Intanto c'è l'amarezza che il 49enne non abbia mai tentato un contatto con la famiglia. Io se fossi stato al posto suo, quando sarei tornato a casa dall'ospedale, la prima cosa che avrei pensato di farmi vivo dalla famiglia, perché effettivamente mi avrei ammazzato una figlia.